Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nel corso della giornata di lunedì tempo variabile sulla Liguria, con cieli a tratti anche grigi e qualche possibile debole fenomeno nel corso della giornata, specialmente sul Levante Ligure. Ma vediamo ora nel dettaglio la provincia d'Imperia. Giornata di alternanza tra sole e nubi, con temperature massime senza variazioni, valori infatti che saranno ancora compresi tra gli 11 e 14 gradi. Situazione pressoché analoga anche sulla provincia di Savona, con qualche nuvola in più che potrà insistere specialmente lungo le coste, ma senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. Sulla provincia di Genova condizioni di variabilità, giornata infatti di alternanza tra sole e nubi, senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni, al più solo un po' di piovigine. Sul Tiguglio situazione pressoché analoga, con cieli a tratti anche grigi e qualche possibile debole fenomeno nel corso della giornata. Sullo Spezzino condizioni di variabilità, giornata con cieli in prevalenza nuvolosi, ma senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. Ci attende un martedì con tempo variabile sulla Liguria, cieli infatti in prevalenza nuvolosi, con qualche possibile debole fenomeno sul Levante Ligure. Temperature massime e lieve calo di qualche grado, con valori che si aggireranno intorno ai 13 gradi. La ventilazione è debole e Mar Ligure calmo o poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.